E' stata in sicurezza 2024 e un piano straordinario di controllo del territorio assoverato e nei luoghi a maggiore vocazione turistica del litorale sud ionico catanzarese che ha avuto inizio il fine settimana appena trascorso e proseguirà per tutto il periodo estivo con l'obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini e turisti durante le vacanze in vista di una sempre maggiore affluenza di residenti e turisti che stanno già affollando i lungomari e i turisti. I luoghi di intrattenimento dei centri cittadini. I carabinieri della compagnia di Soverato impiegano nei servizi di prevenzione generale le gazzelle e i motociclisti della sezione radiomobile a cui si affiancano gli assetti dei 13 comandi stazioni dipendenti nonché in taluni servizi anche i militari dei reparti specializzati dell'arma, nuclei carabinieri forestale, NIL e NAS, particolarmente attivi per assicurare i controlli rispettivamente nei settori ambientali, sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla filiera alimentare. L'attenzione operativa della compagnia di Soverato è concentrata in questo comune, maggiore centro di aggregazione, ma anche negli altri comuni del litorale e non, sia in corrispondenza dei principali snodi viairi che nelle aree potenzialmente a rischio per la sicurezza. Battuglie a piedi, militari a bordo di autoradio, in moto e abiti civili sorvegliano quindi le zone centrali e periferiche dei vari comuni del Soveratese, in costante collegamento con la centrale operativa del comando compagnia che coordina il robusto dispiegamento di forze. Il piano straordinario di controllo del territorio in corso per tutto il periodo estivo ha già permesso di conseguire i primi e concrete risultati sul piano operativo, a tutela della sicurezza di residenti e turisti. A riguardo, il dispiegamento delle numerose pattuglie ha consentito ai carabinieri di identificare oltre 362 persone e controllare più di 240 veicoli tra auto, moto e scooter, con conseguente accertamento di violazioni al codice della strada, in special modo per mancanza della copertura assicurativa e della revisione, guida senza patente, senza casco, cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare alla guida, per un valore complessivo di quasi 4.000 euro e oltre 25 punti decurtati. Un uomo nel corso di uno di questi controlli è stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pertanto gli è stato contestato l'illecito penale previsto dal testo unico in materia di stupefacenti, DPR 309-90. A soverato in occasione di un posto di controllo alla circolazione stradale, un ragazzo è stato sorpreso guidare in stato di ebbrezza alcolica, come risultato da accertamenti compiuti con l'apparato Alcol Test in dotazione dai militari, la patente di guida gli è stata ritirata. A seguito di tamponamento tra veicoli, il conducente di un'autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica sottoposto ad accertamenti sanitari per constatare la probabile assunzione di sostanze stupefacenti è risultato positivo, anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata. In conseguenza di altro distinto sinistro stradale, un automobilista ha omesso di prestare soccorso e si è anche dato a precipitosa fuga. Tempestivamente rintracciato e identificato dai carabinieri è stata informata la procura della Repubblica di Catanzaro. Un uomo in più circostanze ha scattato fotografie ed effettuato ripresse video con il suo cellulare senza il consenso di un anziano, che ha richiesto l'intervento dell'arma e presentato denuncia querela per il forte stato di agitazione e malessere che ha influito sulla sua libera determinazione. Tutto è accaduto, secondo una ricostruzione dei militari, per dissidi di vicinato. Tale condotta è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Euro 516, ai sensi dell'articolo 660 del codice penale. Un giovane extracomunitario, invece, nel corso di altro controllo, non esibiva al personale operante, apparentemente senza motivo, un suo documento di identificazione. Da speditivi accertamenti è risultato essere in possesso di un permesso di soggiorno scaduto di validità, tuttavia in corso di rinnovo. Per tale condotta è stata informata l'autorità giudiziaria. Sulla strada statale 106, direzione Reggio Calabria, un automobilista è stato fermato alla guida di un'autovettura senza patente di guida, poi risultata essergli stata revocata sette mesi fa con provvedimento prefettizio, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Pertanto, nei confronti di costui, si è proceduto a norma dell'articolo 73, decreto legislativo 159-11, codice delle leggi antimafie e delle misure di prevenzione. Infine, nel contesto del servizio, sono stati identificati e segnalati alla prefettura di Catanzaro tre soggetti, tutti giovanissimi, poiché trovati in possesso complessivamente di oltre 4 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.